Siamo al reparto di ostetricia dell'ospedale di Arezzo. Il bambino che vediamo inquadrato è un bellissimo bambino con i capelli, si chiama Mattia Valente, è l'ultimo nato nel 2011. Signora, questo è un primato. Sì, non lo sapevo, però siamo contenti. Comunque che lui sia nato bene, una gioia per la nostra famiglia, per tutti e grazie a Dio che è uscito tutto bene. Signor Valente, allora questa è un'emozione particolare. Pensavo, siccome è il mio compleanno è il primo gennaio, pensavo che riuscisse ad arrivare al 2012. Comunque è stata una festa doppia. È bellissimo lo stesso, l'ultimo dell'anno è passato chiaramente in secondo piano. Questa splendida bambina che vediamo è la prima nata di Arezzo del 2012, erano passate da poco le 1 alle 1.31 esattamente, si chiama? Anna, ragazzo. Allora signora, intanto complimenti per questa splendida creatura, complimenti anche al papà naturalmente, anzi al babbo perché dobbiamo arretinizzare subito. Babbo, babbo. Allora signora, intanto è contento di questo primato? Eh beh sì, non ce l'aspettavamo, però è toccata a noi, è stata una bella sorpresa. Dicevo che l'anno ha iniziato in maniera migliore. Sì, è un capodanno alternativo. Sotto sotto, lei ci sperava però che l'ascesse questo giorno. Ma, visto che è successo poi siamo rimasti contenti, sì. Poi lei insomma giocava in casa, visto che lavora qui all'ospedale. Lei dall'accento non è arretino? No, per niente. È arretino d'adozione? D'adozione da più di dieci anni, sì. Ci tengo a dire che... Io lavoro nei carabinieri. Sempre fedele all'arma anche a lei. Sempre, sempre. Abbiamo mantenuto alto il nome e il prestigio dell'arma anche in questo caso. E la signora? Io lavoro qua in ospedale, faccio l'anestesista. Quindi lei ha giocato in casa. Ho giocato in casa, sì. Tanti auguri a voi e anche alle splendida Anda. Buon anno a tutti. Grazie, buon anno a tutti. E ora.